Il borgo di Lago Pesole con il suo castello. Castello di Lago Pesole. Allora eccomi all'interno del castello. La cappella dei mercchi. Le assassine. Sono strettissimi viali. Il museo. Come da previsioni meteo, il tempo si sta imbronciando. Il santuario di San Donato. Con i suoi affeschi incredibili. Saluto gli affreschi del santuario di San Donato. I giardini storici. Panorama da qua su. Saluto il borgo.